La terra del ponente Ligure, una località, Montegrosso Pianlatte a 1300 metri di altitudine, una giornata festiva, gente di queste parti, faccia antica, sapore di un tempo e giochi ormai dimenticati, improvvisati barbecue, l'arte rurale di cuocere spaghetti e salsicce e come contorno basta un giro per i boschi ed ecco spuntare grosse teste di porcini. Quassù non si ricerca la tradizione, quassù la vita è quella di un tempo. Per far l'amore e non ti scordare di me e quando ti vedo... Ora parliamo di calcio, proseguono le lettrazioni... Scusate, la signora, la signora mi conosce, sai che è la moglie di Renato? Che Renato? Quella che lavora allo terrore. Però come si ricordava? Io non mi ricordo. Grazie. Ci vuole un cuore? Vedi, ci vogliono le mascherine con i piedi. Eh, sì. Oii! Seppi? No, no, Diego. No, dai, levati. Tra le tre. No, Diego, no, eh. No, dai, vieni, no. No, ma vediamo, eh. Capri, capri. Capri! Papà! 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 Tutti i filari. Buonanze! Buonanze! Ciao! Ciao! No? Sera, fruttavia. le fotografie bellissima bravo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.